E' abbastanza grave quello che sta accadendo in queste ore nella nostra città. E' bastata una semplice lettera dell'ARPA di Bari con cui chiedeva al Comune di Ceglie, all'ASL e al Comando dei Carabinieri di conoscere se eventualmente ci fossero dei siti su cui fare delle indagini più approfondite per verificare se ci sono presenze di materiali tossico o radioattivo così come da più parti viene vocificato. Il Comune anziché rispondere a quella lettera in un modo più approfondito ha pensato bene di pubblicare sul sito comunale, sul sito istituzionale, una lettera, un invito con tanto di facsimile di domanda con cui si invitano i cittadini a segnalare la presenza sul territorio di siti inquinati o presenza di materiale radioattivo. Nella città si respira un'aria molto pesante, un'aria allarmata che danneggerà sicuramente la nostra cittadina per quello che era la città del turismo, la città della gastronomia. L'amministrazione comunale deve intanto assumersi le proprie responsabilità partendo da alcuni elementi che pur sono in possesso degli uffici o dovrebbero essere in possesso degli uffici. Per esempio dalle discariche che nel territorio comunale sono state presenti per quello che riguarda i rifiuti solidi urbani. Il sindaco non può chiedere ai cittadini la supplenza al suo ruolo. Il sindaco ha la responsabilità sul territorio ed è lui in prima persona che deve dare all'ARPA elementi certi per indagare, per cercare quello che da qualche parte si sussurra. Io ritengo che in qualità di assessore all'ambiente della scorsa giunta di centro-sinistra ho iniziato a fare una serie di interventi e di rilievi come per esempio una verifica fatta anche attraverso una richiesta ai carabinieri di Ceglie per un vecchio terreno abbandonato che fu sequestrato nel 2000 e poi puntualmente dissequestrato. Quindi il dissequestro di quell'aria sicuramente ha sancito che all'interno di quell'aria, così come era stato impreventivato, non c'era materiale pericoloso e radiattivo. Bisogna rassicurare la città. Non è pensabile che noi continuiamo a farci del male. Oggi leggevo da qualche parte Ceglie Messapica si cerca l'uranio. Ma scusate, stiamo parlando di altre cose. Ceglie ha bisogno di tranquillità, ceglie ha bisogno di sicurezza, ceglie ha bisogno di essere quello che è e non di inventarsi delle cose che a mio avviso oggi, in assenza di elementi certi, non ci sono. Io vorrei rassicurare i cittadini, chissà, se qualcuno sa, dica e scriva qualcosa. Ma intanto è l'amministrazione comunale che deve prendere in mano le redini della situazione per tentare di rassicurare i cittadini e nello stesso tempo di dare gli elementi necessari all'ARPA intanto ma anche a tutte le altre strutture preposte al controllo e alla salvaguardia del territorio per verificare quello che sta accadendo a Ceglie.